Musica Dranghet operazione contro Cosca nel crotonese 6 arresti Incendio doloso danneggia un cantiere di Ile a Roccella Ionica Istituito l'albo regionale primi acquirenti latte distinto per il latte bovino e per quello ovicaprino L'attività motoria come terapia nelle patologie cardiorespiratorie Salve e ben ritrovati con una nuova edizione dell'informazione di Calabria TV I militari della compagnia Carabinieri di Petilia Policastro hanno arrestato 6 persone Ritenute responsabili di associazione per delinquere di stampo mafioso Estorsione, incendio e usura I militari della compagnia Carabinieri di Petilia Policastro Con i colleghi dello squadrone eliportato Cacciatori Calabria Hanno arrestato 6 persone di Petilia Policastro e di Cotronei Di cui 3 sono finite in carcere e altre 3 sono agli arresti domiciliari Per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso Di estorsione, incendio e usura aggravati dal metodo mafioso L'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro Portata avanti dagli uomini dell'arma di Petilia Ha abbracciato un lasso di tempo molto lungo E si avvalsa sia di tecniche tradizionali che di intercettazioni ambientali Che hanno permesso di accertare Quanto questi soggetti, ritenuti tutti appartenenti alla locale di Andranchita Fossero oppressivi nei confronti delle realtà imprenditoriali del territorio Un uomo di Vivo Valencia è stato rintracciato e portato in carcere Dopo che il suo processo, giunto in Cassazione Lo ha condannato in via definitiva a 6 anni di reclusione Per detenzione di sostanze stupefacenti Dopo 8 anni si conclude negativamente per un uomo vibonese L'iter giudiziario che era iniziato a seguito a un suo arresto Avvenuto il 10 marzo del 2015 Quando insieme ad un altro vibonese venivano sorpresi dalle forze dell'ordine Mentre trasportavano lungo un tratto stradale nel Cosentino 6 chili di eroina suddivisa in 10 panetti da 600 grammi l'uno Il terzo grado di giudizio, resosi necessario Dopo il ricorso presentato avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro Lo ha condannato ad espiare la pena di 6 anni di reclusione Pertanto gli agenti della squadra mobile di Vivo Valencia Lo hanno rintracciato e arrestato Sottoponendo anche a perquisizione domiciliare L'attuale dimora del soggetto Alla ricerca di droga e armi illegittimamente detenute L'uomo ora si trova nel carcere di Contrada Castelluccio Un incendio di natura dolosa è stato appiccato in un cantiere edile a Rocella Ionica nella Regino Le fiamme hanno distrutto un bagno chimico e danneggiato una struttura adibita a box ufficio È divampato all'interno del cantiere dei lavori per la realizzazione del progetto Borgo dei Caraffa Wedding and Conference Destination Nell'area antistante la chiesa di San Giuseppe nel centro storico di Rocella Ionica Si tratta di lavori pubblici promossi dal comune di Rocella E finanziati con il Fondo Sviluppo e Coesione 2000-2006 Nell'ambito del bando APQ Borghi ed Ospitalità Progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria Il rogo di Matrice Dolosa, secondo quanto accertato dai Vigili del Fuoco E dai Carabinieri intervenuti prontamente sul posto Ha distrutto un bagno chimico e danneggiato una struttura adibita a box di uffici Di proprietà dell'impresa aggiudicatare dei lavori con sede a Forlì E consorziata con due ditte esecutrici di San Giorgio Murgetto e Rombiolo Sull'accaduto l'amministrazione comunale di Rocella Ionica Guidata dal sindaco Vittorio Zito esprime una ferma condanna Non possiamo tollerare che i nostri continui sforzi nel promuovere la cultura della legalità Sul cui fronte siamo impegnati da molto tempo con diverse iniziative Siano vanificati da episodi così ignobili Mirati ad intimidire chi lavora con onestà e sacrifici In un territorio di per sé difficile come quello calabrese Dichiara Vittorio Zito Nella speranza che gli inquirenti facciano piena luce Per consegnare alla giustizia gli autori del vile gesto Esprimiamo sincera avvicinanza e solidarietà all'impresa vittima del grave danneggiamento Sull'accaduto interviene anche il geometra Aldo Cannatale Galle rappresentante della cooperativa CPL Polistena Che sta eseguendo gli interventi nell'area della chiesa di San Giuseppe Mi spiace per l'atto intimidatorio che abbiamo subito Non ci fermeremo ma porteremo a compimento i lavori nel rispetto del contratto Come abbiamo fatto anche in altri cantieri Dove tempo addietro è successo qualche episodio simile Purtroppo questa piaga che affligge il nostro territorio Non siamo ancora riusciti a sanarla Ma sono fiducioso che piano piano Denunciando tali episodi Lottando e continuando a fare onestamente il nostro lavoro Riusciremo a venirne fuori E un incendio di natura probabilmente dolosa Ha distrutto sulla spiaggia di Caolonia Marina Una barca a vela che l'autunno scorso Si era arenata con a bordo una cinquantina di migranti Sul tratto di spiaggia della cittadina della Locride Un incendio di natura verosibilmente dolosa Ha distrutto la spiaggia di Caolonia Marina In una barca a vela che l'autunno scorso Si era arenata con a bordo una cinquantina di migranti Sul tratto di spiaggia della cittadina della Locride A bordo dell'imbarcazione a settembre Erano giunti i profughi di varie nazionità Soccorse a diverse miglia di distanza dalla costa calabrese Dalla guardia costiera e successivamente condotti Fin dentro il porto di Roccella Ionica A bordo di una delle motovedette della Capiteneria di Porto Sul luogo dell'incendio si sono ricati i carabinieri E anche i vigili del fuoco Sull'accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri L'imbarcazione utilizzata dai migranti E a rinassasi a Caolonia Marina Era in attesa di un provvedimento di demolizione Da parte delle autorità competenti Quattro persone di origine siciliana Sono state denunciate dai carabinieri Per insolvenza fraudolenta Poiché a seguito di vari giochi e scommesse Andati a male Hanno cercato di distrarre l'impiegata Della sala scommesse di Palmi Riuscendo una per volta A dileguarsi furtivamente senza pagare A Palmi i carabinieri hanno denunciato Quattro persone di origine siciliana Per insolvenza fraudolenta Di una somma di circa 11 mila euro Presso una ricevitoria del centro A dare subito la notizia Un'impiegata della sala scommesse Che nel constatare il loro dileguarsi All'esercizio commerciale Senza saldare l'ingente debito Allertato nell'immediatezza i carabinieri Nel dettaglio la dinamica di quanto sarebbe accaduto I quattro dopo aver accumulato Un debito complessivo di circa 11.600 euro A seguito dei vari giochi e scommesse Hanno cercato di distrarre la dipendente Nell'intento premeditato di non pagare Riuscendo uno per volta A dileguarsi furtivamente Quando anche l'ultimo dei giocatori È salito in macchina Senza aver saltato il debito La donna addetta alle vendite scommesse Ha subito chiamato il 112 E avvertito la centrale operativa Della compagnia dei carabinieri di Palmi Fornendo tutti i dettagli utili Per l'identificazione degli avventori Tra i quali determinanti Sono state l'indicazione del modello dell'autovettura All'oro in uso Nonché il loro marcato accento siciliano Avviate nell'immediatezza Le ricerche dei militari Della compagnia di Palmi E di Villa San Giovanni In previsione di un possibile rientro in Sicilia Da parte dei sospettati Gli stessi infine sono stati individuati e fermati Proprio presso l'imbarco dei traghetti I successivi accertamenti investigativi Hanno permesso di ricondurre Tutti i soggetti identificati Agli stessi presenti Presso il centro scommesso in questione Grazie al riconoscimento dei medesimi Da parte della dipendente E all'acquisizione delle immagini Presso il sistema di videosorveglianza del locale Dalla successiva perquisizione veicolare I militari hanno rinvenuto 4.300 euro Somma accertata Quale provento di alcune vincite Da parte dei debitori Sottoposta a sequestro Dagli ulteriori riscontri È emerso che i soggetti non fossero nuovi Alla commissione di reati di questo tipo Condotti con le stesse modalità In diverse province di Calabria e Sicilia Dopo 13 anni Al via e lavori All'ex municipio di Monasterace Nel Regino Diventerà un centro polifunzionale Con uffici pubblici Manca poco Per il via e lavori All'ex casa degli uffici comunali di Monasterace Sita in via del Calvario A Monasterace Centro Una struttura che da liberazione amministrativa Dell'aggiunta in carica guidata dal sindaco De Leo È destinata a diventare Un centro polifunzionale Destinato a uffici pubblici Per associazioni E spazi comuni Per attività ricreative Un'opera che ha avuto Un'iter lungo per 13 anni Una sorta di record Quasi Infatti Il finanziamento Da parte del Ministero dell'Ambiente E della sicurezza energetica Ex transizione ecologica Risale al 2010 Con primo cittadino Maria Carmela Lanzetta Il piano progettuale Presentato al di Castero dell'Ambiente Prevedeva Un totale Di 739 mila euro Una proposta Che pur essendo risultata ammissibile Non era stata In un primo tempo finanziata Quindi A distanza di anni Gli interventi risultati ammissibili Sono stati inseriti successivamente Nell'ambito del sottopiano Efficientemente energetico Degli edifici pubblici Ad uso pubblico Finanziato Con risorse FSC 2014-2020 E solo nell'ottobre 2017 Tale cifra È tornata a disposizione Del comune ionico Cui ispetterà un contributo Di 670 mila euro E che confinanzierà Il piano progettuale Per un importo Di pari A 69 mila 375 euro Da garantire Mediante la Contrazione di mutuo Con cassa deposito E prestiti Con i lavori Verrà rifunzionalizzata E messa in sicurezza L'ex casa comunale Del centro ionico Pronta ad ospitare Le associazioni Su proposta Dell'assessori All'agricoltura Gianluca Gallo La giunta guidata Dal presidente Roberto Chiuto Ha approvato La delibera Con la quale È stato istituito L'albo regionale Dei premi acquirenti Distinto Per il latte Bovino E per il latte Ovi Caprino Uno strumento in più Per monitorare Le produzioni Lattiero Casearie E garantire Così qualità E aiuti mirati Su proposta Dell'assessore All'agricoltura Gianluca Gallo Nei giorni scorsi La giunta guidata Dal presidente Roberto Chiuto Ha approvato La delibera Con la quale In adempimento Ed obblighi Normativi Nazionali E comunitari È stato così Istituito L'albo regionale Dei primi acquirenti Distinto Per il latte Bovino E per quello Ovi Caprino Demandando Al dipartimento Agricoltura Il compito Di procedere All'adozione Di tutti i correlati Provvedimenti Amministrativi Uno strumento in più Proprio per monitorare Le produzioni Lattiero-Casearie E garantire Qualità E aiuti mirati Infatti L'iniziativa Sottolinea L'assessore Gallo Punta ad assicurare Attraverso un sistema Che consentirà Di organizzare E monitorare La produzione totale Di latte sul mercato Evitando così Situazioni di carenza O di eccesso Di prodotto Sarà altresì Costituita Una solida base Di dati Per il dimensionamento Finanziario Di eventuali aiuti Anticiclici Nell'ottica Di contribuire A creare Una rete Di sicurezza Contro l'eventuale Volatilità Dei prezzi Ad essere interessati Dalla misura In particolare I primi acquirenti Ovvero Le imprese Che acquistano Latte Direttamente Dai produttori Per sottoporlo A trattamento E trasformazione O cederlo Ad una o più imprese Dedite alla lavorazione A loro carico Tra l'altro L'obbligo Di rendere Dichiarazioni Riguardanti Gli estremi Identificativi Dei fornitori Gli indirizzi Degli stabilimenti Di provenienza O delle aziende Di produzione E per ognuno Di essi Separatamente Per specie animale Ed origine geografica I dati Riferiti e relativi Al mese precedente Di acquisto Di latte Ponte Sullo stretto Ok Del Consiglio Dei Ministri Al decreto Giornata storica Non solo Per la Sicilia Ma anche Per la Calabria Ma per tutta L'Italia Dopo 50 anni Di chiacchiere Questo Consiglio Dei Ministri Ha approvato Il ponte Che unisce La Sicilia Al resto D'Italia E dell'Europa L'opera più green Del mondo Con 140.000 tonnellate Di CO2 Non più immesse Nell'aria E acqua più pulita Lavoro vero Per decine Di migliaia Di persone Per tanti anni E quanto Ha affermato Il Ministro Alle infrastrutture Matteo Salvini Dopo il Consiglio Dei Ministri L'accelerazione Del governo Sulla realizzazione Del ponte Sullo stretto È molto positiva E il decreto Approvato dal CDM Rappresenta Un importante Passo in avanti Il ponte Sarà un grande Attrattore Di investimenti E soprattutto Di investimenti Infrastrutturali Lo ha detto Il Presidente Della Regione Calabria Roberto Chiuto Chi dice no Al ponte Perché ancora Mancano le altre Infrastrutture Fa un grande errore Decenni fa Quando venne realizzata L'autostrada Del sole Non c'erano Altre strade Di rilievo E fu proprio Grazie a quella Grande opera pubblica Che si sviluppò Una rete Di strade statali E di collegamenti Fondamentali Per collegare Il paese Con il ponte Sarà più conveniente Portare l'alta Velocità Ferroviaria Fino a Reggio Calabria Anche in Sicilia Sarà conveniente Investire Sull'autostrada A2 Sarà più facile Per la Calabria Ottenere risorse Per la strada Statale 106 Quindi Sì al ponte E sì All'implementazione Di tutte le opere Complementari Che saranno Indispensabili Per valorizzare Al meglio Questa grande Infrastruttura E ora Cambiamo argomento Siamo giunti All'ultima notizia La ginnastica Come terapia Nelle patologie Cardiorispiratorie È stata Seriamente Presa in considerazione Durante un progetto Di formazione Al personale medico Che si è tenuto A Pizzo Calabro Prosegue L'attività Dell'Istituto New Delta Di Pizzo Che mira a garantire Corsi di aggiornamento Per i medici L'argomento Affrontato in questa occasione Ha riguardato L'attività motoria Come terapia Della patologia Cardiorispiratoria Diciamo In molte patologie L'attività motoria È terapia È come se fosse Un farmaco Ma anche È importantissima Nel mantenere Lo stato di salute Quindi Una duplice Importanza Migliorare Le malattie Ma mantenere Lo stato di salute Su questo Noi ci siamo Già organizzati Infatti abbiamo Una palestra Ben organizzata Con tante attrezze E cose E anche Stiamo cercando Di dare Un input Nel territorio Per sottolineare L'importanza Di un'attività Motoria Che nelle nostre Latitudini Come sta emergendo Nel convegno È purtroppo Molto trascurata Il corso Mirava a promuovere Un'adeguata formazione Relativamente Alle modificazioni Fisiopatologiche Dell'apparato Cardio-respiratorio Sia nel corso Di esercizi fisici In condizioni normali Così come In determinate situazioni Quali ad esempio Lo stato di gravidanza Io tendo sempre A essere rigida Con i miei pazienti Perché devono aumentare Non più di 9-11 kg Gravidanza È ovvio che Questo è fondamentale Il raggiungimento Di questo aumento di peso Tra i 9-11 kg Anche 12 Deve essere ottenuto Con due cose Con l'attività Una dieta Diciamo Strutturata Quindi Io la chiamo Igiene alimentare E un'attività fisica Motoria Tutte le linee guida Le sigo Le nostre linee guida Italiane Insieme anche Le linee guida Canadesi E americane Sono concordi Che l'attività motoria Dovebbe essere Di 30 minuti Al giorno Per un massimo Di 150 minuti A settimana Durante l'attività fisica La donna Si deve idratare bene L'attività fisica Che viene consigliata È la camminata veloce Di 5-7 km orari Oppure Un'attività di resistenza Quindi Degli sport Tipo lo stretching Tipo lo squat Lo yoga E anche Un'attività Tipo Un'attività funzionale Quindi Con dei pesetti Questo aiutano Soprattutto La donna Che ha una tendenza A sviluppare il diabete Perché C'è un grosso studio Sul BMGI Che evidenzia Come un'attività Motoria moderata Ma più che altro Un'attività di resistenza Riesce a ridurre Nelle due ore Postpandiali I livelli di glicemia Mantenendo una buona glicemia Quindi questo aiuta molto La paziente Soprattutto che Ha un diabete gestazionale O quella che ha Una predisposizione A svilupparla Una buona attività Fisica Non può prescindere Da un controllo Dell'attività cardiologica Eh, senz'altro Bisogna In ogni caso Prima di iniziare Qualsiasi attività Fare un elettrocardiogramma Ed eventualmente Proseguire Con un ecocardio Per vedere un pochino Se il soggetto è idoneo A svolgere l'attività Che viene prescritta Per lui Una volta avviata L'attività Fisica Il controllo Costante È fondamentale Per capire anche I progressi Che si possono fare Sicuro Il controllo Costante Riesce a far capire Un pochino Il grado di allenamento Che ha raggiunto Però un controllo Clinico Ere proprio Va fatto Grosso modo Intorno Ogni anno Ecco Non oltre Non oltre Non di più Termina qui Termina qui la nostra informazione Grazie per aver seguito Il nostro Tg Ora spazio Alle notizie Dell'Italia e del mondo Oggi al congresso Ha ribadito il suo No a reddito di cittadinanza Che definisce un fallimento E al salario minimo Sul quale ha sottolineato Che Io credo Che l'introduzione Del salario minimo E minimo legale Non sia la strada Più efficace Per una ragione Semplice Perché io temo Il rischio Che La fissazione Per legge Di un salario minimo Diventi Non Una tutela Aggiuntiva Rispetto a quelle Garantite dalla Contrattazione collettiva Ma una tutela Sostitutiva E questo Mi dispiace Per come la vedo io Finirebbe Per fare un altro Grande favore Alle concentrazioni Grandi concentrazioni Economiche Che hanno come obiettivo Quello di rivedere A ribasso I diritti dei lavoratori Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella In occasione Del 162esimo anniversario Dell'unità nazionale Si è recato All'altare della patria E in un messaggio Sottolinea Come la Repubblica In innumerevoli prove E da ultimo Durante la pandemia Ha confermato Sentimenti di unità E coesione Stringendosi Ai valori costituzionali La Costituzione Lino degli italiani E la bandiera Sono i riferimenti Che ci guidano Nell'impegno comune Di consolidare Un'Italia fondata Su pace Libertà E diritti umani Scrive il capo Dello Stato Che poi aggiunge Viviamo oggi Con il conflitto Scatenato dalla Federazione Russa Un'aperta minaccia Che ci impone Una ferma risposta Unitaria In seno Alla comune identità Europea E atlantica Affinché Venga posta Fine ai combattimenti E si raggiunga Un duraturo Accordo di pace Il presidente cinese Xi Jinping Dal 20 al 22 marzo Sarà in Russia Per discutere La cooperazione strategica Tra i due paesi E il rafforzamento Delle relazioni Di partenariato Ad annunciarlo Il ministro Degli esteri Cinese L'incontro Con il presidente Putin È previsto Per lunedì 20 Si tratta Della prima visita Del presidente cinese Dall'invasione russa Dell'Ucraina E la Cina Apre alla possibilità Di mediazione Tra Mosca E Kiev Intanto Mentre la Corte Penale Internazionale Ha emesso Un mandato di arresto Per Putin Per crimini di guerra Sono sempre più Le armi al centro Di questa fase Della guerra In Ucraina Le chiede Kiev Con la Polonia Che ha rotto gli indugi Diventando il primo paese Nato a fornire Jet militari A Zelensky Mentre Stati Uniti E Germania Continuano ad essere Contrari Stamattina è stata La Slovacchia A seguire Varsavia Che oltre a inviare MiG-29 Fornirà a Kiev Anche una parte Del sistema Missilistico Cub Li distruggeremo Il duro commento Di Mosca Il covid è sul punto Di diventare Come un'influenza Stagionale È quanto afferma L'organizzazione mondiale Della sanità Credo che stiamo Arrivando al punto In cui possiamo Guardare al covid-19 Allo stesso modo Di un'influenza Stagionale Una minaccia Alla salute Un virus Che continuerà A uccidere Ma che non sconvolgerà La nostra società Ha detto Il direttore Dell'OMS Per le emergenze Michael Ryan Il venerdì È sempre più il giorno Simbolo delle proteste Di matrice ambientalista Questa volta È stato preso Di mira A Firenze Palazzo Vecchio Imbrattato Con vernice Arancione Utilizzando Due estintori Proprio mentre Gli attivisti Due appartenenti Al movimento Ultima generazione Stavano compiendo L'atto vandalico Il sindaco Nardella Che si trovava Proprio Sull'arengario È intervenuto In prima persona Per bloccarli Mentre i turisti Che si trovavano In piazza Della signoria Hanno cominciato A fischiare Gli ambientalisti Gli ambientalisti